veramente una gran bella partita quella a cui abbiamo assistito questo pomeriggio tra inter e benevento ovviamente faccio un post su instagram per fare in bocca al lupo a mio cugino antei che oggi partiva appunto titolare contro l'inter a san siro due minuti e gli assegnano praticamente un fallo in calcio di rigore che i car di trasforma ma prima vi saluto ciao che cazzo di gufo di merda bella a tutti da me anche se secondo me è stato abbastanza generoso riguardandolo mi sembra ci fosse un contatto però insomma vabbè dovevo gufarlo non ho fatto apposta scusa lui e va bene quindi inter che passa che passa in vantaggio subito immediatamente i cardi in rigore se lo procura candreva e poi candreva va subito a rete e quindi inter immediatamente sul sul 2 a 0 si capisce che molto probabilmente sarà una partita che finirà con tante reti e così è stato perché siamo quasi al novantesimo e siamo 5 a 2 per l'inter però ragazzi il benevento se l'è giocata ci hanno provato hanno fatto quel che hanno potuto e alla fine le occasioni se ne sono ritagliate le hanno create due reti le hanno buttate dentro ma quest'oggi l'inter è stata è stata più forte perché perché la squadra che butta sempre più palle in rete dell'avversario non pensate a cose zozze è quella che alla fine merita sempre di vincere tant'è che un Perisic in formato veramente super con tre assist un Lautaro Martinez in formato super che fa due reti una di testa una di piede e che sfiora la tripletta praticamente chiudono definitivamente i conti affronteranno la Lazio ai quarti di finale sarà una bella sfida ovviamente una bella partita Lazio e Inter solitamente sono due squadre che sulla carta si equivalgono e che quindi danno sempre vita ad un bello spettacolo ecco allora hanno fatto falla a mio cugino si è buttato per terra e si è fatto pure male no si è riarsato bene così mi fate sapere voi che cosa ne pensate nei commenti perché ripeto nonostante il risultato dei 5 a 2 accorcia inglese roberto inglese inglese insigni che cazzo sto a dire roberto insigni è il fratello ovviamente del calciatore del napoli e bandinelli poi farà il gol del 5 a 2 quindi insomma ripeto bene inglese non so perché mi è venuta di inglese fu così che inglese andò al benevento scambio con insigne 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 al napole vabbè attenzione che a momenti benevento ci ha riprovato ancora una volta ma comunque benevento vivo benevento che ci ha provato e che ripeto nonostante abbia subito la doppia rete iniziale qualcosa qualcosa di importante lo ha provato a fare scusa del gioco dei parole mi piace commentate condividete iscrivetevi al mio canale qualora non lo aveste ancora fatto stasera vi farò vi proporrò il post partita del napoli contro il sassuolo e per oggi basta perché de calcio insomma ve ne ho offerto abbastanza ho fatto anche il post partita di tottenham manchester united poco fa ma non so partite di feed ovviamente se vi va andate a darci un'occhiata perché insomma è stata una partita bellissima in cui in cui pogba ha fatto il fenomeno e in cui de gea ha parato l'impossibile e quindi si sta riaprendo quello che è il discorso champions league molto probabilmente proprio in premier se vi va andatelo a guardare se vi va supportarlo ve lascio nelle schede in alto a destra il il video in questione detto questo mancano 4 minuti ma penso che mo pure che segna un altro collo e benevento un altro collo lì cambia cambia oggi incepio cambia veramente ben poco domani è un altro giorno tornerò ad essere più scemo di oggi ciao